Good morning a tutti voi e buona settimana, seconda settimana di Pasqua. I Vangeli della Risurrezione sostanzialmente li abbiamo letti tutti, perché non è che ce ne siano così tanti. Scusate. Così adesso riprendiamo tanti Vangeli che leggiamo alla luce della Risurrezione, alla luce della Pasqua. Allora incontriamo un personaggio che abbiamo incontrato anche recentemente, siamo al capitolo terzo di Giovanni, versetto 1. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse, Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Ecco, Nicodemo è sempre l'immagine, l'icona. Giovanni costruisce sempre un po' i suoi personaggi in modo iconico, cioè diventano appunto, raffigurano qualcosa che fa parte del discepolo o del non discepolo, del non credente. Ecco, in questo caso del discepolo che è in continua ricerca, che non si arrende, che continua a fare delle domande, che interroga la vita. In questo caso va da Gesù di notte, perché la notte, oltre a essere il segno dell'oscurità, di qualcosa che ci fa paura, è anche il segno delle domande misteriose. E anche il segno lo percepiamo, cioè lo sperimentiamo spesso ognuno di noi, no? Quando vai alla sera, magari cominci a pensare a quello che hai vissuto, ai problemi che hai avuto, o a degli interrogativi che ti assillano, magari ti prendono la vita, non ti fanno dormire. E Nicodemo è un po' così, non riesce a dormire, perché ha visto quello che ha fatto Gesù, quello che ha compiuto le sue parole, non riesce a dormire, allora lo interroga. E magari quando non riusciamo a dormire, interroghiamolo pure noi, è Gesù. E Gesù dice, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Nicodemo non capisce, non capisce ciò di cui sta parlando Gesù, ma noi lo capiamo alla luce della Pasqua, eh? Cosa significa rinascere dall'alto? Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Alzeranno lo sguardo. Rinascere dall'alto allora significa rinascere da quel Dio, dal Dio della croce. Rinascere dall'alto ogni giorno, e non importa l'età, quando si è vecchi, quando si è giovani, quando si è vecchissimi, si può sempre rinascere. Noi non nasciamo una volta al mondo, rinasciamo ogni volta che mettiamo giù il piede la mattina. E rinascere dall'alto significa rinascere dalla croce, cioè rinascere dall'amore. Perché l'amore è l'unica sorgente che ci può far rinascere ogni giorno, e non perdere mai la voglia di vivere, di lottare, di continuare a domandare, di continuare a trovare un senso della vita. Poi si va avanti, ma fermiamoci qui. Evviva le cose belle della giornata di ieri, di questo weekend. Come sempre, il celebrare. Il celebrare insieme, e sentire che il risorto ci invita a fare un percorso, un percorso che ha l'obiettivo di, come diceva il Vangelo della Domenica, gioirono al vedere, cioè a riconoscere il Signore. E poi ieri sera ci siamo visti ancora con i giovanissimi, abbiamo ripreso un po' la Via Crucis, quindi l'esperienza che loro da dentro hanno fatto, è stato molto bello, così come è stato molto bello proiettarsi già verso l'estate. Abbiamo fatto un'attività che io vorrei ora, fare ora, tra due mesi e poi a settembre, pensando un po' alla dimensione della comunità, dell'oratorio, sono note delle cose molto belle, soprattutto, e proiettarsi in avanti. Hashtag sarà un'estate bellissima. Ale, buona giornata a tutti voi!